Presentato anche alla sede del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, come in tutta Italia, il calendario storico dell'arma 2022, che celebra i 200 anni del primo regolamento generale. Il calendario prosegue il cammino intrapreso due anni fa, continuando ad arricchire racconti di narrativa contemporanea, con pregiate tavole di maestri della transalanguardia. Il talento dello scrittore Carlo Lucarelli accompagna i lettori mese dopo mese con narrazioni ispirate, come conferma il comandante Alfonso Pannone. Oggi presentiamo vari prodotti editoriali, fra cui il calendario storico, che è stato illustrato da Sandro Chia, che è considerato il massimo esponente del transalguardismo, e con delle spiegazioni da parte di Carlo Lucarelli, l'autore di Gialli. Prende spunto dal regolamento dell'arma dei carabinieri e parla in particolar modo dell'etica del carabiniere. Oltre al calendario storico è stato presentato anche il calendario da tavolo e i planning, nonché l'agenda dell'arma dei carabinieri che ha una prefazione fatta dal generale del corpo gammata Carmelo Bugio. Questi prodotti dimostrano l'attenzione che ha l'arma dei carabinieri per la prossimità, per la vicinanza alle popolazioni, e lo si vede anche dalle tavole e dalle immagini, e noi continuiamo con i nostri presidi sul territorio a garantire il più possibile la vicinanza a tutte le popolazioni, anche dei comuni più piccoli.